ci siamo fermati in pasticceria non si poteva non fare qua non so neanche in che città penso che siamo sempre dentro il comune di belluno pasticceria deon bellunese qua c'è il cartello veramente buone le brioche costano un euro pasta buonissima crema buonissima la vetra mi ha detto che la porto nella cattiva via il metabolismo veloce oggi è rimasto a casa ora andiamo lago del miss via siamo a sospirolo lago del miss lago del miss è un lago artificiale però molto carino l'estate ci fanno pure il bagno oggi l'acqua è freddissima buonissima 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 siamo arrivati ai cadini del brenton magico posto poi c'è tutto un giro che si può fare in camminata e si può andare a intorno a questo parchetto naturale pazzesco ora vi porto più in giù ecco siamo più giù così si può vedere questa bellezza giù c'è la pè ciao be ragazzi meraviglia andiamo andiamo a pesca ciao 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 arriva arriva metà pol basso paolina poi se dovessi andare più dentro più in più là arrivo 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 Grazie a tutti.